Quali sono stati i fattori chiave per affrontare questo periodo di pandemia? Ne parliamo con i grandi manager delle grandi aziende. Andiamo a vedere chi è il nostro ospite di oggi di Learning Tips. Mi chiamo Francesco Venturini, sono italo-americano, americano perché sono nato negli Stati Uniti, però sono italo perché so di Roma, dove sono poi effettivamente cresciuto. Laurea in Economia, tanto studio post-laurea, per il puro piacere di capire se avesse senso o meno lo studio post-laurea. Poi magari approfondiamo se ho scoperto se il senso l'avessi o meno. Moglie nata e cresciuta negli Stati Uniti, ma che ormai è daie come intercalare fisso. Due figli, una teenager e un aspirante tale, quindi sono in quella fase di vita complicatissima. in cui i figli stanno diventando uno donna e l'altro forse uomo, nel senso che c'è ancora un pochettino più di strada e comunque noi siamo sempre molto più lenti. A casa si parla ovviamente inglese, ma fuori casa generalmente romanaccio. Quindi ho due figli che parlano romanaccio con l'accento americano. Mi piace la barca, mi piace il mare, adoro sciare perché mi permette di stare fuori e fare sport con i ragazzi che altrimenti riesco a vedere e frequentare poco, essendo quasi teenager sempre di meno. E questa è un po' la mia vita. Possiamo dire una vita quindi tra l'inglese e il daie, non è male. Peraltro, ecco come si è raccontato, nata a New York ma con studi a Roma, un po' al contrario rispetto alla norma. Sì, io sono nato a New York per caso. Mio padre era lì per lavoro. A quei tempi Alfa Romeo cercava per l'ennesima volta di invadere il mercato americano con le sue auto. Mio papà era lì per l'Alfa Romeo. Siamo stati un paio d'anni. Io sono nato, ho cresciuto per un anno e poi mi sono trasferito sempre con il mondo Alfa in giro per l'Europa, fin tanto che poi non siamo tornati a Roma stabile. Certo, anche su questo spesso si è detto che gli alfisti erano un gruppo a parte, anche gli appassionati dell'Alfa Romeo. Una vita interessante quella di Venturini, ovviamente vorrei anche parlare molto dei suoi figli teenager perché la questione generazionale ci interessa e poi è una questione che riguarda, io penso, anche la formazione all'interno delle aziende. Uno se la porta dentro. Allora andiamo con ordine, però ripartiamo da Enel X. Voi siete al centro del cambiamento di paradigma che riguarda tutti noi, se stiamo negli Stati Uniti da Joe Biden fino ai singoli cittadini, parliamo ovviamente di transizione ambientale, di digitalizzazione, di sostenibilità, insomma tutti i termini che usiamo, forse abusiamo tutti i giorni. Però ormai è questa la vera chiave della nostra esistenza, al di là ovviamente poi della sua azienda. Sono termini molto complessi quelli che ho appena utilizzato, sostenibilità, transizione energetica, transizione digitale. Viviamo in un mondo che sicuramente sta attraversando un periodo molto particolare. Ora volendo cercare di semplificare temi complessi, quando si parla di sostenibilità, a mio parere, perché poi ci sono sempre versioni diverse di come le persone guardano questi grandi temi. Per me la sostenibilità è guardare al mondo e riuscire a capire che in meno di sei mesi, ormai in particolare nelle economie più avanzate, consumiamo quello che la Terra è in generale in grado di produrre in un anno. Quindi siamo in costante debito col pianeta. Direi non soltanto col pianeta, ma anche con le popolazioni che non sono in grado di consumare quanto consumiamo noi. Quindi abbiamo un doppio debito, un debito con la natura e un debito con i nostri simili. Quindi dobbiamo iniziare a pensare sempre di più al futuro delle prossime generazioni, non dimenticando mai chi non ha la possibilità poi nelle generazioni attuali di consumare quanto noi. Quindi noi abbiamo le seguenti possibilità di fronte, consumare meno, consumare meglio o fare entrambi. Secondo me sostenibilità vuol dire appunto fare quei grandi cambiamenti in termini di sistemi economici, sociali, educativi, industriali, alimentari, che ci permettano di consumare meno e possibilmente meglio. Ecco, il consumare meno e meglio ovviamente ci porta verso una transizione ecologica che questa volta probabilmente avrà successo, come dice il premio Nobel per l'economia, Rifkin perché è il mercato che spinge di più verso questa direzione, ossia perché le fonti rinnovabili alla fine stanno diventando più economiche di quelle tradizionali. Poi questa, al di là della chiave etica, la chiave economica che ci porterà verso questa direzione. Sì, sicuramente bisogna trovare sempre una soluzione economica perché abbiamo costruito un mondo intorno all'economia perché le cose funzionano. Transizione energetica non vuol dire soltanto far sì che si utilizzino meno gli idrocarburi, quindi più rinnovabili, quindi si faccia più un utilizzo più sostenibile ed efficiente dell'energia. Significa anche cercare di farlo in maniera tale che quello che stiamo cercando di attuare sia sostenibile da un punto di vista economico e sociale e quindi sia sostenibile da tutti. Faccio l'esempio banalissimo, l'auto elettrica è spesso vista come uno strumento di tecnologia fantastico, meraviglioso, ma che contemporaneamente è eccessivamente costoso per tante classi economiche, per tante classi sociali nel pianeta. Quindi è una soluzione di difficile attuazione e dobbiamo fare sì che tutto quello che riguarda la transizione energetica sia il più democratico possibile e questa è la grande sfida che ci poniamo in particolare come Enelix. Allora, nei nostri learning tips con Challenge Network siamo molto impegnati nel capire come cambia l'organizzazione del lavoro all'interno di grandi entità come Enelix, come cambia la formazione, come è cambiato ovviamente sotto la pandemia e su questo anche si sono già scritti dei trattati. Però l'esperienza di Venturini quale è stata, come è cambiata la sua organizzazione del lavoro, l'organizzazione del lavoro del suo team al di là ovviamente dell'utilizzo maggiore del smart working? Beh, oggi tutte domande difficilissime. Allora, perché sono temi molto ampi e molto complessi. Allora, l'organizzazione del lavoro intanto per come c'è diciamo che cosa conosciamo. Conosciamo bene il passato perché eravamo tutti in ufficio. Conosciamo purtroppo bene il presente perché siamo stati per tanto tempo tutti a casa è molto difficile prevedere il futuro. Quando io faccio la domanda a terzi perché poi non soltanto alle persone che lavorano con me alle persone che lavorano in Enel ma anche fuori faccio la domanda ma voi come vedete il futuro del lavoro? La risposta sempre fissa è vedo un modello ibrido quindi un po' a casa un po' in ufficio. Poi però quando uno cerca di entrare un pochettino più in profondità e inizia a dire ok ma modello ibrido da un punto di vista pratico che cosa significa? Ecco là vedi che avere delle istruzioni pratiche di come applicarle in maniera efficiente non è facile. io se guardo al mondo di oggi vedo una serie di dati interessanti allora prima di tutto ci sta grande differenza tra le varie industrie su come vedono il mondo del futuro. Ci sono state tutte le banche grandi banche americane hanno detto da domani ora che la pandemia negli Stati Uniti è formalmente terminata si torna tutti in ufficio scelta radicalmente differente rispetto a quel modello ibrido che indicavo indicavo prima. Se poi guardiamo però all'interno anche di industrie tipo l'industria digitale che avrebbe nella grande possibilità di fare lavorare le persone a casa ci sono situazioni molto diverse si va da una Spotify colosso della musica online digitale tutti a casa e si vanno a Google che ha ripensato il modello e ha detto sempre di più in ufficio anzi se state a casa mi dovete giustificare la vostra presenza a casa quindi non è una scelta non sarà una scelta facile se guardiamo statisticamente vediamo pure che gli ultra 50 anni sono generalmente le persone che tendenzialmente vogliono più stare a casa perché sono diventati forse meno animali sociali di quello che invece sono le persone più giovani ma qua c'è una grande complessità che dobbiamo però andare a vedere che sono generalmente gli ultra 50 anni che poi fanno le scelte organizzative quindi dovremo anche lì capire come funzionerà ultimo esempio prometto è la strana maniera in cui noi guardiamo un mondo scolastico in cui diciamo oddio tutti i ragazzi a casa hanno bisogno di andare a scuola e poi guardiamo l'ufficio e diciamo no no all'ufficio è un modello ibrido anzi se è possibile state di più a casa quindi quello che su cui andiamo a dire che la scuola è importante quindi l'innovazione la creazione di socialità eccetera è importante lì al lavoro lo diventa un po' meno quindi andando a costruire andando poi a vedere su queste basi quello che sarà il futuro non è facile sicuramente non sarà come il passato specialmente saremo in grado di imparare un po' di lezioni da questi ultimi 18 mesi L'altra domanda delle domande tanto semplice quanto complicata è ma in NLX la produttività all'epoca dello smart working è aumentata è rimasta la stessa è diminuita? È aumentata tantissimo ma per un semplice motivo che noi siamo un'azienda molto giovane e questi giovani si sono trovati in gran parte a essere soli a casa non tutti sono sposati accoppiati non tutti vivono con il compagno o la compagna e per mesi sono stati costretti a stare a casa e quindi si sono aggrappati al lavoro per non perdere il senso della realtà e quindi il livello di efficienza è aumentato in maniera esponenziale anche questo secondo me inciderà tantissimo nel cambiamento che vedremo nei prossimi mesi perché quel livello di produttività a cui noi ci siamo ormai abituati era anche spinto dal fatto che appunto a casa finivamo non avendo altro come alternativa o c'era Netflix o c'era il lavoro quindi dopo un po' Netflix si scocciava e si finiva con lavorare un pochettino di più domani io mi auguro che non sia così e quindi dobbiamo rimettere tutto a posto tutte le nostre agende affinché non si perda troppo in efficienza ma contemporaneamente si riesca di nuovo a vivere e vivere in maniera sociale così come era abito a di prima a proposito dei ragazzi che lavorano in Enel X cosa cercate anche dalle nuove generazioni nei dipendenti di Enel quali caratteristiche e anche umane noi cerchiamo persone che abbiano lo dico visto che siamo nel mondo delle grandi domande delle grandi anche affermazioni cerchiamo gente che abbia voglia di cambiare veramente il mondo la capacità qua si lavora tantissimo si lavorava tantissimo anche prima della pandemia giusto per essere chiari abbiamo però un gran desiderio di fare di fare tante cose e noi cerchiamo persone che abbiano che siano abbiano questa propensione al cambiamento siano flessibili da un punto di vista culturale perché poi noi sposiamo due mondi molto diversi un mondo molto classico è quello di una grande azienda elettrica con un mondo molto nuovo che è quello della DNA del mondo del digitale della transizione quindi abbiamo bisogno di comunque avere quel grado di utilità che ci permette di convivere con il DNA di questa grande azienda che è un DNA che si è costruito negli ultimi cent'anni quindi le persone devono essere flessibili pronte al sacrificio questo è poco ma sicuro possibilmente con una gran voglia di lavorare ma più che altro una capacità culturale di adattarsi a un mondo che sta cambiando rapidamente e quindi si fanno errori dagli errori si impara e poi però bisogna essere sicuri che una volta imparato si mette giù una soluzione di correzione in tempi rapidi e si corre corre per riuscire a soddisfare quello che poi è il vero segreto di tutte le aziende cioè le necessità dei clienti Ventolini l'ultima delle grandi domande epocali torno al PNRR al piano nazionale di ripresa e resilienza 269 pagine 220 e passa miliardi la quota maggiore proprio dedicata alla transizione ecologica 59 miliardi 23 proprio all'energia rinnovabile immagino che avrà letto il documento qualcuno dice soltanto un libro dei grandi sogni messa a terra invece da Enel X che giudizio ha sul piano? ora l'occasione è gigantesca bisogna evitare di sprecarla dobbiamo fare cose utili dobbiamo fare cose fattibili nel breve termine quindi evitare grandi progetti a vent'anni noi abbiamo imparato una cosa nel nostro mondo il mondo dell'energia che ci hanno insegnato le rinnovabili progetti che di generazione in particolare che abbiano un time to market superiore ai tre anni sono progetti che per definizione nel mondo di oggi devono essere scartati perché non hanno un senso pratico né economico ecco noi dovremmo guardare a questi fondi in esattamente la stessa maniera fare investimenti infrastrutturali e non solo sulle nuove generazioni che però abbiano un time to market nei prossimi tre anni perché devono contemporaneamente soddisfare le esigenze di lavoro di oggi e la sostenibilità del mondo che vogliamo per le generazioni più curve questo perché dopo tre anni già diventano vecchi i piani il mondo corre troppo veloce o per cosa no perché ora è necessario fare questi investimenti e quindi abbiamo una necessità impellente però dobbiamo pensare a fare investimenti che abbiano una durata nel tempo traduco nel mondo dell'energia andare a investire su tecnologie che sappiamo che non sono sostenibili e che non saranno neanche durature oggi non ha senso abbiamo parlato di sostenibilità anche di transizione energetica decidiamo come paese di investire in maniera importante nella transizione energetica ma anche di svolgere un ruolo all'interno della transizione energetica quindi non soltanto di andare a installare rinnovabili ma creare filiere industriali che ci permettano poi di essere campioni di energia rinnovabile nel mondo io ricordo sempre che l'Enel non vi dico dal nulla perché comunque ha sempre avuto una grande storia ma ha in mano il Green Power che è il più grande player al mondo delle rinnovabili quindi si può fare l'Italia ha fatto ha dei grandi campioni nazionali sia di natura pubblica che di natura privata ora quello che deve fare è fare delle scelte di breve termine in termini di investimento ma pensando al futuro perché questi soldi ripeto non sono soldi che pagheremo noi ma pagheranno i nostri figli e i figli dei nostri figli allora Venturini è scaduto il nostro tempo a proposito dei nostri figli c'è tanto da fare c'è tanto da lavorare bisogna anche essere ottimisti come ci vogliamo salutare con un daje non daje come lo traducono poi i giornalisti della BBC riferito a Murigno ma un daje un e daje e con un'altra un'altra cosa il futuro è errosio e meravigliosamente interessante quindi lavoriamo affinché rimanga tale perché veramente uscire da questi 18 mesi passati in questa maniera così strana tutti vedo proprio fuori tanta gente che ha voglia di riniziare e se riniziamo con il passo giusto il futuro non sarà soltanto meravigliosamente interessante ma io mi auguro anche meravigliosamente bello grazie Venturini grazie a voi grazie a tutti